Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e sono una maestra di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo Michele. Vorrei presentarvi Raffaella Lisi che ha partecipato al percorso di coaching di due mesi, di nove settimane, dove ha imparato tutto sulle nuove frequenze di luce. Ciao Raffaella. Ciao Rossella. Come stai? Tutto bene, grazie. Bene, grazie. Raccontaci un po' come è andato questo percorso. Allora, sì, allora io ho fatto questo corso con Rossella della durata di due mesi e devo dire che mi sono trovata benissimo sia con lei sia con le ragazze che hanno partecipato, insomma, alle classi. In realtà non mi aspettavo ad ottenere tutti questi risultati perché sessione dopo sessione, incontro dopo incontro con Rossella e le altre si è intensificata sempre di più l'energia che sono riuscita a percepire all'interno delle mie mani e del mio campo energetico ed è stato sempre un crescendo in qualche modo. diciamo che io vengo già da tante esperienze, tanti percorsi spirituali, ma questo è stato veramente il top, secondo me, perché avevo bisogno proprio di questa cosa per riscoprire un talento che già abbiamo dentro di noi, in realtà linearci con la nostra anima, il nostro sentire e trascendere l'ego, cioè farsi guidare dall'anima e diventare dei canali puliti semplicemente di riquilibrio energetico per tutti, per tutti, per tutti coloro che incontriamo, con cui veniamo in contatto ed è veramente meraviglioso. È bello. Sì, sono contenta. Ascolta, tu hai avuto dei risultati particolari su te stessa, sugli altri? Raccontaci un po'. Sì, allora ti dico la verità, le prime volte chiaramente c'era un po' di condizionamento, perché tendi comunque a mentalizzare come dover condurre, come mettere le mani, poi in realtà dopo due o tre incontri già sentivi che l'energia ti guidava e lì vai in maniera intelligente verso la persona a cui dobbiamo dirigere e facilitare la guarigione, quindi man mano si percepiva una sorta di onda, di calore che in qualche modo mi guidava e io stavo rilassata con la consapevolezza che andava da sé e riuscivo anche ad avere delle percezioni a livello visivo, magari a volte mi succedeva di incrementare con l'esercizio anche le visualizzazioni di colori, di luci, anche a livello dei chakra o delle esperienze diciamo spirituali anche abbastanza intense, no? Certo. La cosa bella è che la persona a cui facilitavo la guarigione magari mi dava anche dei feedback così, in alcuni momenti io sentivo un'energia che mi attirava magari verso la testa o il collo di quella persona e la persona mi diceva guarda effettivamente sentivo molto calore e lì è successo qualcosa, è come se si mettesse a posto un qualcosa all'interno senza che lei facesse nulla, quindi è stato veramente meraviglioso. È bello. Ho avuto molti benefici io e le persone che ho trattato insomma in questo periodo e lo farò continuamente diciamo anche in futuro. A che consiglieresti? Allora, guarda il percorso lo consiglio veramente a tutti però in realtà deve essere una chiamata che senti proprio vedendo un po' i tuoi canali YouTube, Facebook e un po' i social, no? E questa è stata un po' la mia esperienza perché essendo comunque sempre in cerca di novità per incrementare il mio percorso spirituale ho sentito proprio una chiamata a venire qui in realtà era un qualcosa di cui avevo bisogno e quindi dico a tutte le persone che intraprendono i percorsi più vari di provare questo percorso con Rostella perché in realtà è un investimento validissimo, non ce ne siamo pentite né io né altri ragazzi anche confrontandoci perché in realtà se ne sentono un po' di tutti i colori oggi come oggi nella rete e quindi non si sa bene diciamo se dare fiducia o meno a queste persone ma in realtà guardate Rostella è una garanzia anche perché non è un qualcosa che lei vi impone di fare, è un qualcosa che lei vi tramanda ma in realtà già lo avete dentro quindi è semplicemente una risonanza, siamo tutti degli specchi quindi facendo questo corso con la pratica vi rendete conto proprio di avere queste capacità innate e con Rostella è tutto più amplificato, più bello, più stimolante ecco, un'esperienza indimenticabile. è bello, è bello, è bello perché conviene. Grazie Raffaella, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, ti abbraccio col cuore veramente, abbraccio tutti voi, ci sentiamo presto, ciao ciao. Ciao Rostella.